Credo che ci sarà da modificare profondamente questo decreto, sia nella sua parte emergenziale, perché la tempistica non è assolutamente idonea, 40 più 60 giorni, 100 giorni. Si può ben capire che se c'è uno sciame sismico che dura qualche mese, i 100 giorni non si capisce da quando farli partire. Quindi c'è assolutamente necessità di rivedere gli aspetti emergenziali, alcuni aspetti burocratici che non aiutano le modalità di intervento, poi anche la parte legata al finanziamento, quello delle assicurazioni privati soprattutto, è una parte che non convince assolutamente noi commissari, così come anche sul tema della CISE ci sarà da cambiare sicuramente qualcosa. Inoltre il provvedimento è un provvedimento molto specifico per l'emergenza e non tiene conto di altri aspetti di prevenzione della protezione civile che credo siano altrettanto importanti.